Da oggi le imprenditrici e le lavoratrici autonome possono richiedere il voucher babysitting, un contributo concesso dallo Stato per tre mesi per un massimo di 600 euro mensili durante il primo anno di vita del bambino. Potrà essere usato in sostituzione del congedo parentale per pagare i servizi di babysitting o i servizi per l'infanzia. È quanto previsto dal decreto del Ministero del Lavoro e dell'Economia e Finanze che estende il voucher babysitting alle imprenditrici e alle lavoratrici autonome. Questo per il 2016 permette di superare la disperità esistente tra imprenditrici e dipendenti. E' da notizia la Confartigianato Imprese Sardegna che parla di vittoria per le donne. Le mamme sono tutte uguali indipendentemente dal lavoro che svolgono. Fare figli è un bene per il Paese deve essere un diritto garantito a tutte le donne, rendendo disponibili quei servizi e quelle condizioni dispensabili affinché non siano costrette a scegliere se lavorare o fare figli, sottolinea nella nota Maria Carmela Folchetti, presidente della Confartigianato. La norma spiega che l'associazione prevede la possibilità per le madri imprenditrici e lavoratrici autonome di richiedere in sostituzione e anche parziale del congetto parentale il voucher per il servizio di babysitting o per i servizi per l'infanzia. Questi devono essere erogati da soggetti pubblici o privati accreditati. L'indernità copre un periodo massimo di tre mesi nel primo anno di vita del bambino e l'importo massimo del voucher è di 600 euro mensili. Il meccanismo per fruire il voucher è lo stesso di quello già individuato per le lavoratrici dipendenti, spiega la Confartigianato. La domanda può essere presentata tramite il sito internet dell'Inps entro il 31 dicembre 2016. In Sardegna il numero delle donne imprenditrici è di 9.330, di cui 5.034 titolari d'impresa, mentre le collaboratrici d'impresa artigiane sono 4.296. In Sardegna il numero delle donne imprenditrici è di 1.330, di cui 5.034 titolari d'impresa artigianato. In Sardegna il numero delle donne imprenditrici è di 1.330, di cui 5.034 titolari d'impresa artigianato. Grazie a tutti.